Musica Buonasera gentili amici ed amiche della Lega Calcia 8, un cordiale saluto che vi giunge dal Garbaglia Derby di Ostia a Fiumicino dove Mr. Jeff e De Angelis entrate adesso sul terreno di gioco si affrontano nella tredicesima giornata del campionato della Serie A della Lega Calcia 8 Primo impegno stagionale per conto di riguardo il campionato del 2015 De Angelis dall'altra parte con l'ottimo Giacinti che riesce vincendo un rimpalla a autolanciarsi Attenzione Giacinti, ma col destro Giacinti si oppone in scarsella, il pallone rimane là e poi è sposito De Angelis, Treguoni in barriera, parte sposito col Mancino e scarsella la deve alzare in corner Voglia di far proprio l'intera posta in palio, ma attenzione subito al colpo di testa E al vantaggio dal Mr. Jeff, al primo a fondo sulla battuta dell'inizio della ripresa, passa in vantaggio la formazione ospite Perde la sfera sul ritorno di Fortessa che avanza da ampie falcate, va al cambio di campo, c'è la conclusione E' un super gol, 2-0 Mr. Jeff e Davello che porta sul doppio vantaggio con un sinistro meraviglioso agli ospiti Scambia con Esposito, rimane al testa fascia il De Angelis che ora si accentra, va Giacinti di propotenza Giacinti, ne salta 2 Giacinti, fa tutto da solo, taglia il campo in verticale, salta 3 calciatori del Mr. Jeff E con il Mancino supera scarsella, riaprendo la gara Per Esposito, così è o così sarà, va il numero 10 col Mancino e la grande risposta di Scarsella Cerchio di centrocampo, alza la testa al numero 4, va da Esposito che con il Mancino trova il grandissimo gol Il grandissimo gol di Mirko, pensa bene, una magia del numero 3 che di prima intenzione disegna una palombella che muore sotto l'incrocio dei pali Fortessa, la battuta del corner, va lui con il destro, finta l'esecuzione, va ora sul secondo palo, Santo Prete con il destro Eina che dunque va alla giocata con il destro per Parisi che alza la testa, attaccato da pensa bene, lo elude Parisi Attenzione, ce l'ha sul destro, Parisi 3 a 2, si rifà avanti il Mr. Jeff, gran dribbling di Parisi che poi spara in fondo al sacco All'attacco del De Angelis che sfuma tra i piedi di Scarsella Mentre viene richiamato Cioffi e c'è un cartellino rosso estratto dal direttore di gara Ai danni di Cioffi che tra l'altro è anche dolorante, De Angelis pensa bene, va alla sventagliata lunga in area di rigore Scarsella la fassua e termina ora la gara, va al Mr. Jeff, il derby di Ostia, vince la formazione ospite che al Garbaglia si impone per 3 a 2 sul De Angelis Siamo stati fortunati perché come hai detto Parisi ci ha salvato all'ultimo Però penso abbiamo fatto una partita importante, siamo andati avanti di due gol e poi siamo stati rimontati Purtroppo abbiamo delle assenze importanti e non era facile, comunque siamo stati bene in campo e alla fine l'abbiamo vinta Sicuramente è un vero derby, la squadra favorita va a perdere, è così Noi eravamo favoriti sulla carta, stasera io non dico mai, senza nulla togliere a chi ha giocato Perché per me sono tutti bravi però avevamo troppa assenza, ce la siamo giocata Non mi è parsa così la partita, sinceramente se finiva 4 a 2, 3 a 2 per noi Poteva finire sia in vittoria per noi che in vittoria per loro Loro un tiro all'ultimo hanno risorto alla partita, su 2 a 2 abbiamo sempre attaccato Prendiamo questa sconfitta e cerchiamo di migliorare Anche se è difficile secondo me migliorare in calcio così perché veramente anche questa sera abbiamo fatto un bel calcio